Ma mortacci mia come lo sconfiggo quest'ora? E' venuta un'idea, devo usare il calcio, la mia squadra del cuore mi aiuterà, potere di Ronald. Ah no giusto non sta nella Niuve. Bernardeschi, us a tua potenza sulle gambe di Godzilla. Godo, devo cercare di controllare il teletrasporto. Pensa Alberto pensa. Nono non ha questo. Ecco si e colo. C'è l'ho fatta. Proviamo ancora. Aspetta quello e Mosa. Mosa, Alberto Ayotte, oh merda dove sarà andato? Devo aiutarlo, vabbè vediamo dove arrivo adesso. Mmh mi ricorda qualcosa questo posto. Nooo, basta questa canzone, nooo. Dove sono? Sergio sei tu? Nooo.